Completati i lavori per l'eliminazione definitiva dell'amianto, già incapsulato precedentemente alla scuola Orciolaia, per un totale di 150.000 euro. L'intervento di manutenzione e di bonifica ambientale, che ha interessato la pavimentazione, ha rispettato i tempi previsti, essendo iniziati i lavori immediatamente dopo la chiusura per le vacanze estive. Adesso, come da protocollo, l'amministrazione attende i risultati dell'ultima verifica dell'ASLA, che, dopo l'analisi di rito, comunicherà la conclusione della procedura o la definizione di altri passaggi prescrittivi, sempre in relazione alle norme in vigore. Martedì 29 agosto è invece previsto un incontro tra il vice sindaco Lucia Tanti, l'assessore Alessandro Casi e i genitori dei 130 bimbi iscritti alla scuola dell'infanzia e al nido, per illustrare loro gli interventi effettuati e le modalità di rientro. La scuola è sempre stata sicura, ma siamo molto contenti di aver portato avanti questo intervento nel convincimento che l'amianto incapsulato non crea problemi, ma se viene rimosso è molto meglio e sulle scuole non badiamo a spese, concludono il vice sindaco Tanti e l'assessore Casi.